Allora, ciao a tutti, ciao a tutte. Io intanto ringrazio, mi associo al ringraziamento del collega, perché dopo un sindaco parla un altro sindaco, del collega Pan, che ringrazia tutti i militanti, la sezione di Cittadella, tutti i militanti che si sono dati da fare per settimane per questa meravigliosa donata. Credo di farlo ripetere un applauso ai volontari, ai tantissimi volontari che gratuitamente si sono dati da fare. Dicevo, parlo da sindaco e da segretario della Liga Veneta, parlando da un territorio, perché questi sono territori tutti massacrati dallo Stato centrale, Verona come Cittadella, come il Veneto, come il Nord, come le regioni virtuose. Dicevo, territori massacrati dallo Stato centrale, da un governo, leggo questo striscione che c'è davanti a me, voi non lo vedete, dice il Presidente del Consiglio che ha la faccia da pirla, c'è scritto lì, io riporto quello che scrive quello striscione. No, perché questo governo è il governo delle bugie, delle promesse non mantenute, della paura della libertà dei popoli, delle bugie perché ci hanno raccontato e su questo ci hanno fatto la campagna elettorale per le europee, che avrebbero regalato 80 euro a 10 milioni di italiani, 80 euro al mese per dare una mano e hanno raccontato che questo lo avrebbero fatto tagliando la spesa e sarebbe stato anche sensato, tu tagli spesa pubblica, dai soldi alle famiglie, alle imprese, questo dovrebbe fare un governo serio. La realtà, io vi do il numero di Verona e sono i numeri di Cittadella, di Padova, di Venezia, di tutto il nord, la realtà è che la manovra degli 80 euro l'hanno finanziata facendo pagare ancora più tasse ai cittadini e alle imprese. Nello stesso provvedimento, la cosa un po' triste in Italia oggi, la cosa un po' triste è che quasi tutti i mezzi di informazione nazionali, quasi tutti, compresi quelli di Berlusconi, e questa è la cosa doppiamente triste, perché Berlusconi prima o poi dovrà dire da che parte sta, se sta con il nord, se sta con la nostra gente oppure se sta con Matteo Renzi, perché Berlusconi prima o poi se lo dovrà chiarire, perché i mezzi di informazione non hanno scritto che nel provvedimento che finanzia gli 80 euro c'è scritto che viene autorizzato lo Stato a aumentare il debito pubblico di ulteriori 40 miliardi di euro, gli 80 euro li hanno finanziati con debito e tasse, non hanno tagliato la spesa e per quanto riguarda le tasse, io vi dico i numeri di Verona ma in base agli abitanti sono gli stessi di tutto il nord, di tutto il nord a Paltra e Trentino Alto Adice che beati loro hanno un'autonomia speciale e quindi loro hanno un qualcosa a cui noi dovremmo ambire e a cui noi tutti dovremmo avere diritto, perché in un paese normale si deve essere tutti stradati allo stesso modo, non qualcuno di serie A e qualcuno di serie B. Dicevo, e questo non è averci la contrattiva Alto Adice, loro fanno bene ad avere l'autonomia e fanno bene a difenderla con le unghie e con i denti ed è la scorsa cosa che dovremmo avere il coraggio di fare, noi veneti, noi lombardi, gli emiliani, tutti dovrebbero avere il coraggio di difendere e portare avanti la loro autonomia, perché è un diritto essere ben governati e spendere bene i propri soldi. Allora per la manovra degli 80 euro la città di Verona ha avuto un taglio dallo Stato di 31 milioni di euro, se voi difidete 31 milioni di euro per 250 mila abitanti vuol dire che ogni cittadino di Verona dal neonato al centenario gli sono stati tagliati più di 120 euro, la manovra degli 80 euro l'ha andati a 10 milioni di italiani, nella città di Verona e vuol dire in tutto il Veneto hanno tolto almeno 120 euro per ogni cittadino dai neonati ai centenari, quindi hanno rapinato ulteriormente i nostri territori, hanno derubato ancora il Veneto, hanno depredato ancora il Veneto per fare la campagna elettorale del Pirla. Questo è quello che è stato venduto agli italiani. E dopo ti trovi in una situazione come questa, ti trovi tre giorni fa in televisione il ministro Lanzetta che parlando di Europa, che parlando di confini dice che ci sono questi poveri disgraziati che fuggono dalla guerra e che fuggono dalla fame ed è insensibile ed è egoistico impedire che vengano qua da noi. Se noi dovessimo accogliere tutti quelli che dall'Africa cercano di scappare dovremmo accogliere centinaia di milioni di persone e non è una soluzione per l'Africa e non è certo una soluzione per l'Italia che non ha né case né posti di lavoro per gli italiani e per la nostra gente. Però questo dicono i ministri del governo, questo stanno dicendo. E poi, e dicevo parlo da sindaco, e poi scaricano il problema sui sindaci. E tu devi confrontarti con il tuo prefetto per fargli capire che la tua gente non ne può più. Perché come fai a spiegare ai cittadini del Veneto che non ci sono soldi per le famiglie, che le imprese chiudono, che gli imprenditori si suicidano e lo Stato trova 40 euro al giorno da spendere per i clandestini che con 1.200 euro al mese ci si mantiene una famiglia. Con 1.200 euro al mese per chi li ha. E allora la soluzione può essere, e ce n'è una sola, perché ci sono quelli che dicono che le coste non si possono controllare. Certo che se le coste le controlli abolendo il reato di immigrazione clandestina, e questo l'ha fatto Renzi insieme a Berlusconi, se le coste le controlli facendo provvedimenti buonisti come lo svuota carceri, che l'ha fatto Renzi insieme a Berlusconi, se tu pensi di governare il Paese facendo entrare chiunque e lasciando che chiunque faccia quello che vuole a casa nostra, allora è normale che la gente si incazzi e si ribelli di fronte a questo Stato oppressore, centralista e liberticida. Perché dicevo l'unica soluzione, ed era stata dimostrata a quei fatti, perché lo fece il ministro Maroni, il miglior ministro dell'interno che la storia repubblicana abbia mai visto, e fu l'unico ministro che sfidando la sinistra italiana, quella che sostiene la faccia da pirla, che sfidando l'Europa, disse noi pattugliamo le coste libiche e quelli che provano a venire li respingiamo e quelli che arrivano li carichiamo su un aereo e li rimandiamo indietro. È l'unica soluzione umanitaria, perché se si vuole impedire che anneghino a migliaia nel mare per arrivare in Sicilia per arrivare in Italia, se si vuole impedire che anneghino a migliaia, l'unica soluzione è non illuderli e non farli partire. Perché se tu gli fai capire che non possono arrivare, non provano ad arrivare. Perché dicono che vengono in Italia perché è il paese dove è più facile approdare. La Spagna è attaccata all'Africa, la Spagna sta solo in mezzo allo stretto di Gibilterra. In Spagna non provano ad andare perché la Spagna gli ha fatto capire che in Spagna non si entra, l'Italia gli ha fatto capire che possono venire e continuare a venire, che tanto il Governo li accoglie e paghiamo noi e noi non ce la facciamo più. E allora la risposta è nel referendum che la regione del Veneto, quindi la regione governata da Luca Zaia, non un comitato di cittadini, una forza spontanea che va bene, van bene le forze spontanee, van bene i cittadini, van bene quelli che promuovono l'autonomia e l'autogoverno, ma la regione Veneto che rappresenta tutti i Veneti, non rappresenta una parte dei Veneti, la regione Veneto rappresenta i 5 milioni di Veneti che vivono in questa regione, la regione Veneto ha detto allo Stato con i soldi nostri, neanche con il denaro pubblico, con i soldi privati, noi facciamo un referendum per chiedere ai Veneti cosa pensano dello Stato centrale, se gli va bene questo Stato centrale oppressore e liberticida o se se ne vogliono andare liberi. E allora la cosa più ottusa, la cosa più stupida che poteva fare un Governo romano è quella di provare ad impedire che la gente si possa esprimere, perché la paura dimostra che lo Stato centrale è in colpa, perché se lo Stato centrale fosse quella coscienza apposta non avrebbe paura che la gente si esprimesse. In Inghilterra e in Spagna hanno lasciato che la gente si esprimesse, si sono confrontati ed è vero che in Scozia ha vinto per poco il no al referendum, però qualche giorno prima il Premier inglese ha dovuto dire che la Scozia ha un suo Parlamento, ha già la devolution, ha già un'amplissima autonomia fiscale e tributaria e ha dovuto andare là e dire se non vi staccate noi vi diamo ulteriori forma di autonomia ed è quello che dovremo fare noi. Il referendum serve a questo, serve per far capire allo Stato centrale che le famiglie del Veneto, che il popolo Veneto, che i popoli del Nord non ce la fanno più a essere sfruttati e a pagare per gli sprechi dello Stato centrale. Viva la Lega, viva Cittadella, viva la libertà!